Città sostenibile e rigenerazione urbana, due temi che sono stati al centro del seminario di formazione organizzato nell'ambito del Salone Provinciale del Mobile di Salerno, in programma fino a domenica 16 presso l'area Salerno Fiere situata nella zona industriale. Un appuntamento importante per parlare del futuro delle nostre città in un'ottica di sviluppo sostenibile. Sono temi alquanto importanti per le città dei nostri territori e li presenteremo attraverso i nostri contributi, in particolare nell'ottica anche di confrontarci con quelle che sono realtà internazionali che possono essere degli esempi di città resilienti, quindi che dopo interventi traumatici, interventi comunque forti, hanno saputo resistere e hanno saputo ovviamente contrastarle. Sono esempi che per quanto riguarda il territorio salernitano, il territorio della provincia salernitano, ma campano in generale, possono essere comunque di attualità e possono essere presi ad esempio. Vedremo in particolare che sono interventi che partono dal basso, quindi dalla sfida della collettività, degli abitanti, della socialità che possono contribuire ovviamente al miglioramento dei nostri territori. C'è possibilità ancora per salvare le nostre città e gli spazi delle nostre città? Le possibilità ci sono, le possibilità ci sono e ovviamente siamo tutti attori di queste trasformazioni, quindi non solo noi come architetti, come docenti, gli ingegneri, i geometri, ma la trasformazione deve essere ovviamente un oggetto che interessa a chiunque della collettività, anche agli abitanti. Ritengo che siano argomenti che vadano approfonditi e debbono essere sviluppati anche in altri appuntamenti. Parlando appunto di altri appuntamenti possiamo sicuramente anticipare quello che è l'appuntamento di giovedì 13 dove invito tutti i miei colleghi, architetti e geometri a partecipare in quanto parleremo di involuco edilizio e benessere e comfort termico, che è un altro argomento di notevole interesse che può offrire spunti di discussione e opportunità lavorative. Per arrivare poi sabato ovviamente all'ultimo seminario con il sisma bonus che voglio dire chi non ne ha sentito parlare in questo momento di incertezza e di difficoltà che stiamo affrontando con il nostro paese e quindi invito tutti ad essere presenti. Per quanto riguarda invece l'aspetto ludotico consentimi anche di pubblicizzare la giornata di venerdì in quanto nel pomeriggio abbiamo un appuntamento da non perdere assolutamente per i bambini in quanto avremo gonfiabili, zucchero filato, attrazioni, artisti di strada se nonché lo spettacolo di un mago professionista come Mago Paolo che diversi conoscono e quindi sicuramente la giornata all'insegna del divertimento.